Nuova mattinata di caos qui in Corso Europa all'altezza con via Zigarelli è ulteriormente cambiato il dispositivo di traffico con pesanti ripercussioni alla circolazione come potete vedere anche nelle immagini alle mie spalle e disagi anche per i residenti. In buona sostanza arrivando da via Zigarelli o dal tratto aperto di Corso Europa bisogna necessariamente svoltare qui per via Pironti che quindi adesso è percorribile nel senso verso Piazza Libertà soltanto per i residenti per chi ha la macchina in qualche garage si può entrare in questo tratto di Corso Europa per poi svoltare alla prima traversa aperta Largo De Luca. Fino al 31 agosto almeno così sembra, dover vivere in questo modo mi sembra assurdo, io posso capire che vogliono liberare via Zigarelli però io che sono residente come altre persone a Corso Europa per rientrare a casa devo andare per via Colombo, devo andare per Piazzetta Perugini, ritornare di qua e farmi il giro, farsi tutta la città. Quando bastava alternare un po' i sensi unici, questi sono tutti e due sensi unici che vanno all'interno, bastava mettere questo che veniva all'esterno e quello che va all'interno io che abito qua come altre persone residenti potremmo avere una scelta per andare a destra o a sinistra a via Pironti. I sensi li stavano mettendo all'inverso, le macchine arrivavano, scendevano e si trovavano un muro davanti perché non sapevano dove andare, cioè indescrivibile. Non è possibile che non si pensi di aprire un benedetto attraversamento per il corso, stamattina qua c'era il caos totale, le macchine che hanno difficoltà a girare come penso che abbiate già documentato dalle riprese perché chiaramente lo spazio è quello che è, ambulanze che devono raggiungere strade, traversine, rimitrofe che non sanno come arrivare. E tutto questo per non aprire un piccolo attraversamento e secondo me bisognava in ogni caso prima concludere e aprire questo tratto di strada perlomeno leggermente carrabile e dopodiché andare avanti.